Di fronte mi trovo il professor Domanini, il dottor Delfrate, il professor Gabriele e il professor Franceschini. La strategia emodinamica conservativa partendo dalla tecnologia e la mini-invasività tra il presente e il futuro. Allora, partiamo con una domanda che è rivolta a tutti i nostri interlocutori e questa domanda nel 1988 il professor Franceschini ha presentato la metodica Shiva, una metodica per affrontare le problematiche del paziente affetto dalla patologia venosa degli arti inferiori e aveva due obiettivi principali. Prima di tutto la conservazione del capitale venoso e il secondo obiettivo è quello di preservare e mantenere il drenaggio dei tessuti. È una strategia e non una tecnica e a questo punto è una strategia che va sempre in evoluzione col tempo, quindi dall'88 ad oggi vi chiedo, è cambiato qualche cosa? Che cos'è cambiato? È andata veloce questo tipo di strategia? La strategia, diciamo, di fondo no, era sempre lo stesso principio di strategia per essere al stesso momento conservativo, emodinamico, in modo tale da conservare il capitale venoso, uno, e due, di favorire il drenaggio dei tessuti e tre, per ridurre il rischio di recidive, perché le recidive sono ancora, anche con noi ancora, ma molto meno di prima e sono possibilmente più facili da trattare. Questa è una prima cosa. In questa cosa anche, la strategia era di dire non operare, trattare le vene se uno sta bene, vuol dire che la più parte del tempo la patologia varicosa è una patologia benigna, che non ha bisogno di essere trattata solo se i pazienti li dà fastidio, perché le gambe sono pesanti e veramente legate a questo, o perché gli dà un fastidio quando mette la gonnetta o lo short, ma se no può sopravvivere benissimo e non c'è urgenza perché tanti medici di noi hanno le varici e non se le trattano. Anche. Però a volte può essere, in casi più rari, può dare veri problemi come dei rischi di ulcera, vera pesantezza e cose, allora diciamo l'indicazione è più stretta, più chiara. Dunque l'indicazione, diciamo, è di fare dei rischi conservativi, il meno invasivo possibile, il meno agressivo possibile, e per fortuna si è, visto che meno sei invasivo, meno sei aggressivo, meno la fai, meglio sta, il paziente è lo migliore del sistema. Perché devi toccare il punto giusto, questa è la strategia. Allora l'evoluzione è stata più legata alla tattica, nel senso che si faceva sempre sotto anestesia locale, eccetera, però il filo utilizzato, come le compressioni e le cose post-operatorie sono state modificate col tempo, migliorate, non grazie a me, ma tanti altri che hanno fatto questo metodo, che avevano delle buone idee, da tanti, particolarmente in Italia, devo dire, anche in Stagna, e adesso anche con il dottor Del Frate, che ha partecipato molto a questa evoluzione per migliorare le condizioni operative da qualche anno adesso. Proseguiamo con un'altra domanda. La sciva, abbiamo detto, è una strategia che parte dalla diagnostica, ed in primis dalla conoscenza del sistema emodinamico dei flussi, nel suo sistema superficiale profondo. Allora rivolgo voi questa domanda dicendo, ma essendo importante la conoscenza dell'emodinamica dei flussi, cosa ne pensate per quanto riguarda i medici giovani, chirurghi e non di oggi? Come sostengo da tempo, la sciva ha rivoluzionato l'approccio verso la terapia della malattia varicosa, sia ovviamente per chi l'ha praticata a sinterizio, sia per chi si occupava di questa patologia in maniera diversa, con altri tipi di interventi, ma ha obbligato tutti a guardare con attenzione lo sviluppo, la patologia della vera sapena, della malattia varicosa. Quindi questo è il merito indiscusso e assoluto. Ovvio che se ci si approccia a questo tipo di tecnica, diventa fondamentale, assoluta, la conoscenza, la padronanza dello studio ecoclonodopera e quindi conseguentemente necessario per la progettazione dell'intervento. Un buon progetto porta di solito sempre a un buon risultato. Posso intervenire su questo? Noi abbiamo posto con forza il problema della formazione degli specializzanti in chirurgia vascolare anche nell'ambito delle diagnostiche, assegnando loro dei compiti strutturali di presenza in sala di ultrasonografia e devo dire che il monitoraggio che facciamo mensilmente sulla loro attività registra che in media gli specializzanti eseguono nel complesso più di mille procedure, più di mille esami nell'arco del mese. Sono una trentina di specializzanti, quindi credo che siano molto ben esposti attualmente alla diagnostica strumentale, quindi complessivamente anche alla diagnostica strumentale venosa e quindi man mano nel loro arco formativo dei cinque anni arriveranno certamente, proseguendo per questa strada, a una formazione credo di alta professionalità e di alta comprensione di quella che è l'emodinamica venosa. Io penso che in questo ventennio, che è passato dalla presentazione ad oggi, si stia raggiungendo oggi al di là dei facili entusiasmi iniziali che però non erano supportanti da una preparazione adeguata nell'affrontare questa strategia, penso che oggi si cominci ad osservare i primi segni della consapevolezza. La consapevolezza da parte di tutti di quella che è la reale modalità di funzionamento del sistema circolatorio, non mi riferisco solo a quello venoso ma anche quello arterioso e questo in prospettiva può portare ad avere delle generazioni future di specialisti che potranno elevare quello che è il valore più importante, cioè il livello medio della qualità della diagnostica. Quando si parla di emodinamica io non la limiterei solo al lato venoso ma anche al lato arterioso. Diciamo che con la consapevolezza ci sono oggi le basi per fare sì che in un prossimo futuro potremo incidere sulla qualità media della diagnostica. Diciamo che il processo ha richiesto una ventina d'anni ma forse questi sono i tempi fisiologici per i cambiamenti. Abbiamo visto che la strategia Shiva parte dalla conoscenza del sistema emodinamico dei flussi e si deve avvalere di uno strumento che è l'eco color doppler, uno strumento che è in continua evoluzione, in continuo progresso. Un giorno Claude disse che l'eco color doppler deve essere come la moglie, bella, risveglio, senza trucco e non come la moglie sveglia perché era molto truccata e quindi era diventata bella. Prima di tutto allora volevo chiedere al dottor del fratte che è un utilizzatore di grande competenza di questo ecocolor doppler che cosa ne pensa? Allora noi quando parliamo di ecocolor doppler dobbiamo distinguere un hardware che è la funzione di base della macchina da un software che sono tutte le elaborazioni di quello che la macchina rileva sul paziente e che dopo una sua elaborazione ci presenta. Per cui diciamo bisogna sempre tenere presente che c'è un'elaborazione delle immagini per cui bisogna imparare a fidarsi delle macchine, magari non esagerando con i software e imparare attraverso l'esperienza e la competenza personale ad affidarsi molto all'hardware che è il cuore del sistema diagnostico. Professor Franceschi, lei dobbiamo il contributo fondamentale che lei ha dato per lo sviluppo dell'utilizzo del cocolor doppler. Quanto è fondamentale abbinare le conoscenze della fisiopatologia emodinamica e al competente utilizzo di questo strumento, dell'ultrasale? Buona idea, vuol dire come dire se io faccio l'astronomo e posso utilizzare gli attrezzi per andare a vedere le stelle. L'uno e l'altro, devo essere bravo nella conoscenza dell'astronomia e bravo nell'utilizzo degli attrezzi per guardare le stelle. E uno e l'altro, migliorando gli attrezzi, migliorando la mia veduta sull'astronomia e viceversa, vedendo le cose ho bisogno di modificare gli attrezzi per vedere meglio quello che ho bisogno di vedere. Questa è una cosa, secondo me, fondamentale. La cosa incredibile è che con gli ultrasuoni si può guardare in tempo reale attraverso la gente. Allora, con l'esame clinico si tocca con le dita, si beve con gli occhi, anche si beveva un po' l'orina dei pazienti per sapere se c'era zucchero o non c'era, eccetera. Adesso abbiamo un attrezzo che è la prolungazione delle mani e degli occhi. Per me gli ultrasuoni è uno strumento clinico e si è utilizzato come uno strumento clinico per capire quello che si fa, per capire dove si va e non una cosa sistematica che fa perdere tempo e che è inutile ma sempre mirata per il paziente e quello che cerchiamo conoscendo la patologia. Dunque, uno deve conoscere. e l'astrezzo è quello che va a vedere. Quello che va a vedere, ad esempio, io posso dire per la mia esperienza, se ho avanzato un pochino nella conoscenza dell'emodinamica vascolare in generale e adesso in particolare sul venoso, è grazie a quegli attrezzi che mi hanno fatto vedere tutti i giorni meglio, capire meglio, interrogarmi meglio su quello che vedevo e poi dietro andavo anche a modificare l'apparecchiatura per modificare le cose. Dunque, fondamentalmente è capire meglio come funziona il sistema venoso che magari è stata sempre più l'accederendola della patologia vascolare, ma che comunque, ma ci sono secondo me due ragioni. Uno, perché non si muore di vanici ma si muore di artirite, dunque uno è più pesante dell'altro, è più utile. La seconda cosa è che i chirurghi operavano trattore delle vanici e sempre queste, sempre le recidive, va bene, comunque la patologia che, un momento quando non capisci fai come se non l'hai visto e così è meglio, così dormi tranquillo. E siccome non aveva un grande incidenza sul paziente, diciamo, vitale, allora non lasciano perdere. E questo è stato ripreso all'inizio dagli dermatologi che loro non hanno idea, e loro sono come botanisti, guardano le cose, sei giù, scuro, eccetera, poco interessati da come funzionava sotto. E poi adesso è toccato, vuol dire, che c'è un tempo che è arrivato. Io credo che se non avessi io avuto il doppio per i sistemi, non avrei potuto fare tutto. Ma diciamo che cent'anni fa, ma anche prima, Trendo Lemburg e il suo lievo Pertes avevano già, solo con le dita, intuito delle cose formidabili che utilizziamo ancora oggi. E' proprio questo che volevo chiederle. Nonostante noi ci, nella diagnostica venosa, emodinamica, usiamo dei test gravitazionali dinamici, ma si utilizzano anche delle prove storiche che c'erano state nella storia, che magari qualcuno ha già abbandonato nei libri. No, sono scritte nei libri, nessuno ne sa perché non capiscono a che serve. Per capire una cosa, se tu hai un apparecchio, diciamo, un termometro, è così detto un termometro medicale, allora la gente la prende come medicale, ma tu la puoi utilizzare per vedere la temperatura di altre cose. Ma non ti viene in mente, perché l'apparecchio non lo vedi come funzione, ma come progetto. Il progetto è di misurare la temperatura qua. E dunque non ti viene in mente che possa misurare la temperatura in un altro posto. Capisci che voglio dire? E' questo che succede spesso. Ad esempio, la manovra di pertesse o altre cose era fatta per misurare, per vedere se c'era un problema del sistema venoso profondo. Ma noi lo utilizziamo, come funziona quel sistema, per fare delle cose, per valutare le varici, per valutare che cosa possiamo fare, indipendentemente anche dell'effetto sul sistema profondo. Dunque, la funzione è lo scopo che tu dai a quello che è la funzione. Voglio chiedere al professor Gabrielli e al dottor Delfatte. La sciva non è solo una strategia per affrontare la diagnostica, la terapia della patologia venosa, ma è anche una modalità di pensiero che possiamo applicare non solo nel trattamento della patologia venosa, ma anche in altri campi. E volevo sapere cosa ne pensate. Ne abbiamo parlato poi oggi dalla dissezione all'ultrasuone, all'accesso in parti anatomiche delicate e alla minivasilità. Io credo che però stiamo estendendo un po' troppo il concetto di Shiva ad altri campi. In verità, diciamo che tradurrei il discorso in questo modo. Chi fa, applica questa strategia ha man mano acquisito anche tutta una serie di tecniche o di procedure che vanno poi a estendersi in altri campi di applicazione. Ecco, non è la Shiva in sé ad averlo indotto. Comunque sia, come tante cose in medicina, ci sono dei punti di partenza che possono essere strategici e sono grandiosi in quanto tale, ma poi anche la strategia evolve e cambia. Così come le tecniche applicative trovano delle diramazioni, trovano dei rivoli paralleli e quindi applicazioni alternative. Tu non vuoi dire che la Shiva, ad esempio, è figlia dell'ultrasuone e non il contrario. L'ultrasuone ci fanno, dal punto di vista di diagnostica, ha fatto delle cose enormi, dei vari campi di specialità eccetera, ma anche nel campo delle terapie, perché adesso si stanno sviluppando altre cose per come terapia intrasuoni, delle cose serie, diciamo, non delle cose. E dunque profittiamo, come uno ti fa vedere, ti apri un occhio, guardi con l'occhio aperto. Forse poco tempo dopo che Franceschi ha iniziato le sue esperienze con Doppler, io ho iniziato le mie, nel senso che era il 1975 quando ho avuto in mano il primo Doppler, la prima sonda era un Parx e ho iniziato ad utilizzarlo, però il mio interesse era rivolto alla patologia arteriosa, quindi per dire lo stesso strumento in due mani diverse, in due teste diverse, due occhi diverse, hanno portato ad applicazioni differenti, merito più grande del suo, indubbiamente. Grazie. Se mi è concesso, forse ho interpretato bene il senso della domanda, diciamo che quando parliamo di strategia scive eccetera, parliamo di una estensione al campo vascolare particolare venoso e di un metodo che dovrebbe essere la base della professione di tutti i medici, che sarebbe quello del ragionamento sulla base di quello che noi osserviamo che abbiamo davanti, pensando a tutte le evidenze che abbiamo visto, pensando a come utilizzare quello che abbiamo davanti in un modo positivo per i pazienti. Quindi parliamo di un metodo, parliamo di quello che aveva già esposto Cartesi o qualche anno prima, quindi osservare, pensare, numerare e applicare. Voglio concludere, visto il titolo della sessione ultima che stiamo facendo, era la tecnologia minima invasività fra il presente e il futuro. E allora vi chiedo, cosa ne pensate, dove stiamo andando adesso, che cosa ci dobbiamo guardare, che cosa dobbiamo fare per poter andare avanti o siamo ancora fermi, stiamo andando alla velocità della luce, stiamo andando ancora troppo lentamente. Cosa ne pensate un attimo tra questo presente e il futuro che arriverà? Io penso che il progresso nella mia idea in campo scientifico parta da una riduzione del numero di strade sbagliate che si prendono in medicina, per cui passa attraverso l'elevazione della qualità delle prestazioni che la classe medica dà. Per cui al di là di fare un'elencazione di tecnologie, perché la tecnologia di per sé non ha un'intelligenza che gli permette di decidere in proprio, ma può essere intelligente il modo in cui viene applicata, io direi che bisogna parlare di un miglioramento dell'educazione all'applicazione di un metodo. Questo è il vero progresso. Dopodiché si possono utilizzare le tecnologie quando si vede che sono funzionali all'ottenimento di un obiettivo, quando l'ottenimento di questo obiettivo ha un razionale basato sulla conoscenza della fisiopatologia. Credo che il meglio debba ancora venire, abbiamo ancora tante cose da fare, da scoprire, utilizzare anche strumenti di ricerca che adesso sono solo a livello accademico, per studi molto approfonditi, per poterli poi passare all'applicazione quotidiana e così come è successo con il DOP, perché probabilmente all'inizio è uno strumento assolutamente d'avanguardia, è diventato a basso costo e nelle mani di tutti. Succederà questo con tante altre cose. Comunque se ci pensiamo un attimo, vediamo che esiste un enorme divario tra quanto è oggi la ricerca e l'applicazione tecnologica nel settore arterioso rispetto al settore venoso, il settore venoso oggi come oggi è molto trascurato dalla ricerca e dall'industria ad esso connesso. Credo che nel futuro si dovrà senz'altro rivolgersi con maggiore attenzione a questo settore e credo che anche lo sviluppo farmacologico, così come è stato per le arteriopatie, lo sviluppo farmacologico abbia molta strada da percorrere nel settore venoso per arrivare, non dico a eliminare totalmente la problematica dell'insufficienza venosa superficiale ma senz'altro a ridurne la competenza chirurgica. Però ancora non lo so. Io ritengo che se continua così da sempre il progresso tecnologico sarà rapido, sempre più rapido. Il progresso scientifico non sono sicuro che sia così rapido. Troveremo sempre un attrezzo più sofisticato per fare qualcosa, ma per sapere se si deve fare questa cosa o no, che è la scienza, è molto più lento. E si vede anche in patologia arteriosa, ad esempio con tutte le tecniche andovascolari eccetera, ci sono sempre delle avalancate di nuovi attrezzi, di nuove cose eccetera, che comunque migliorano col tempo, ma miglioreranno anche insieme a venoso, che è l'attrezzatura come no. Ma fino adesso, finché non sono arrivate allo scopo di prima, non ci siamo ancora, ma spero che tutto l'ondo vascolare arriva a fare così bene che la chirurgia è aperta. Perché fino adesso, questo che è pericoloso, è che tutti i giovani e tanti giovani chirurghi sono più spinti a fare l'ondo vascolare che la chirurgia è aperta, non nota per tutti, ma da certi posti, e non ha più la manualità per operare correttamente, che è una cosa importantissima. Dunque la gente deve pensare che non è perché c'è oro, che dietro c'è diamante. Grazie. Vi ringrazio tutti per essere stati insieme in questi due giorni. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.